Ciao a tutti i ragazzi da TheShiningRashiram, eccoci qui oggi con la prima parte dell'apertura del primo box che è quello di Dark Rush faremo tre aperture, si il box è coreano come potete vedere da questa scritta faremo tre parti, quindi dieci pacchetti a parte e questo verrà inviato a Pokémon IT Collection come video per la community, iniziamo subito ad aprire i dieci pacchetti io ho una paura, vuoi tagliare le carte ragazzi? ma no, tocca prima di tagliare non so tagliare eh ma queste sono più stronze ho stra paura se lo tagliate mi arrabbi il trick è 1-1 se vuoi farlo così cioè così? si allora un cane non so come si chiama Bulbasaur Jolkan e ah no, ancora una Chilgor Itmora bene, tocca a me con il secondo pacchetto sono io che non so tagliare allora non è nella forbice che non taglia ok, allora ho visto qualcosa di bello anch'io allora cosa? non lo so abbiamo Wubat con Baskan Zorua e Entei X oddio mio si pronuncia si pronuncia una tre Entei X e caramella rara prima X di questo box Entei X secondo pacchetto mettiamola qua? si dai mettiamola qua ho un brutto presentimento posso dirlo cosa? di trovare un'altra Entei? anche io vai terzo pacchetto del box i pacchetti sono tutti uguali non ci sono pacchetti con suo pokemon diversi ma in tutti c'è Zorork che è questo cartellino si che è questo Slareon Primpap non so come si chiama non me lo ricordo Arredactil e Sibley ma leggete tocca a me leggete sei te a leggere questa scrittura? no ecco le olo di questi set sono meravigliose sono molto più belle perché hanno l'olograficità che ricorda quelle vecchie hai ragione non si taglia questi pacchetti ok si si sono tagliati perché ricorda molto quelle vecchie appena ne troverai allora si è ritornato fortunato infatti ci ho trovato una hex che culo infatti no allora abbiamo Yamask time time poi che è amolkania no è time no è time herdiar e dark patch e cofragri 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 che non riesce mai vai quinto pacchetto siamo a metà della prima parte abbiamo già trovato 20 ix bellissimo guardate quella striscia luminosa che lo pervade qui abbiamo la nostra collezione di next destinies tutto in inglese a parte questo zekram che cerchiamo in inglese allora vaporeon croco croco dailo corocoroc l'evoluzione di zubat dark cloud slow blow andiamo con il pacchetto numero 6 no 5 mi sale no è sei partita tu tu fai tutti i dispari tutti i pari hai ragione sì sì uno uno mi manca un 4 ah sì questo è il numero 6 minum drillbull ducklet herdiar no ed ecco qui la prima olo che è questo bellissimo venasaur come vedete l'olograficità è molto diversa perché è a pallini e non è a a righette orizzontali e anche il contorno della carta come potete vedere è del solito colore non è come quelle giapponesi sì anche il director non è come quelle giapponesi andiamo con il settimo pacchetto il settimo è il mio penultimo giusto? sì tu fai il 7 e il 9 io faccio l'8 e il 10 due testa ne mancano ragazzi sì le ho prese tutte allora abbiamo cling no abbiamo clang ivisaur time pole no e electric evolve old amber e carnivine bene ottavo pacchetto ottavo pacchetto poi non sappiamo che box apriremo ma perché abbiamo l'imbarazzo della scelta ok via questo pezzo via questo pezzo apriamo facciamo il trick allora abbiamo quello prima di accego torcic croco rock espion e oligans jimmy and kass con i loro scraghi poi abbiamo il nono e penultimo pacchetto di questa prima parte in cui abbiamo già trovato in dayx e venezaurolo venezauro è molto bello giusto allora abbiamo yamask plus combaskan e escadril e umbra ultimo pacchetto ragazzi ultimo pacchetto che apro io aspettate che si è messo fuori poco allora i pacchetti li useremo nei tcbm per mettere dentro le carte come come solito che facciamo allora abbiamo larvesta sandile daclet galvantula e accego questo era l'ultimo pacchetto ricapitoliamo allora nella prima parte abbiamo trovato entei ex e venezaurolo subito una ex nel secondo pacchetto speriamo di essere fortunati anche nei prossimi 20 pacchetti i prossimi 20 pacchetti vi aspettiamo nella seconda parte ciao a tutti da The Shining Rashiram grazie a tutti